Veloce ripasso sul consenso, partiamo da un caso concreto, cioè quello della collega che mi racconta di una signora anziana di 82 anni che da 12 giorni attende di essere operata al femore. Le due figlie sono lontane, c'è solo un genero che già non vuol dire niente. L'anestesista non addormenta la paziente e non si accontenta di un, peraltro inutile dico io, fax col consenso della figlia, ma chiama il giudice tutelare. La domanda è, è un comportamento corretto? La risposta è nemmeno per sogno. Allora, distinguiamo, abbiamo fatto quattro video sui testimoni di Geova, che dovevano in realtà servire come un po' va de mecum per capire la questione consenso barra dissenso dei trattamenti sanitari, ma purtroppo vedo che non sono stati, io non sono stata chiara, quindi dovrò cercare, non so più come fare su questo argomento. Allora, se il paziente non è in grado di intendere volere e l'intervento è urgente, si procede senza consenso, invocando lo stato di necessità. Punto. Non si chiama né il giudice, né i carabinieri, né la guardia nazionale, né i vigili del fuoco. Non si chiama nessuno, si procede. Obiezione fatta sotto lo stato di necessità lo dichiara il chirurgo, neanche per sogno o meglio. Quando la situazione clinica è tale per cui anche altri medici, facciamo finta che questo paziente sia in rianimazione per altre questioni, debba essere ricoverato al femore, perché è in condizioni per poter sopportare l'intervento. Ovviamente quando si fanno degli esempi si devono semplificare le cose, perché se mettiamo troppe variabili, dal punto di vista proprio così didattico del caso, non si riesce. Quindi facciamo finta che il paziente sia in carico, sia in rianimazione, e che possa sopportare l'intervento per la frattura di femore. In questo caso tutta l'equip deve poter capire che si procede in stato di necessità, quindi non ti serve a te anestesista, al chirurgo che scriva è uno stato di necessità. Cioè lo stato di necessità non è lo stato di calamità naturale che va dichiarato, non è la dichiarazione di guerra, non è un atto dove serve il notaio. Il paziente è semplicemente un'attestazione che l'intervento è urgente e il paziente non è in grado di intendere volere per motivi contingenti o per motivi, ad esempio perché è sedato, o per motivi suoi, tipo c'è l'Alzheimer. Ok? Quindi in questo caso, poi c'è l'altra obiezione, paziente terminale che cade come evento praticamente terminale rispetto alla sua malattia. Anche qui è evidente che questo paziente non ci va in sala operatoria, un paziente neoplastico allettato con l'Alzheimer, con le metastasi, non ci va in sala operatoria perché tanto non c'è nessun apporto sulla qualità di vita, è un paziente che magari ha 30 di PA o 2, cioè quindi il paziente terminale non va in sala operatoria perché non c'è l'indicazione ad andarci. Allora, stesso difetto in tutti, scusate se mi permetto, però c'è sempre lo stesso difetto, ragionare per compartimenti stagni, cioè, o meglio, pensare di poter ragionare per compartimenti stagni. Io vi sto dicendo da tutti questi mesi che non c'è la regola, c'è a una malattia A, non c'è un comportamento B sempre uguale a se stesso, sempre identico. Per cui la sensibilità del medico, la sua preparazione, il suo senso anche di umanità, concordo qui con l'etica, lo porta a prendere decisioni che non saranno mai uguali neanche in due casi uguali, perché i casi uguali prevedono comunque persone diverse, situazioni diverse e decisioni che saranno comunque diverse. Ciò che deve uniformare le decisioni è un criterio, ad esempio il criterio è che se un paziente deve andare in sala e l'anestesista sa che deve andare in sala e trova il chirurgo che in sala non vuole andare, prende la cartella e scrive Ho sollecitato il chirurgo ad eseguire l'intervento ma il chirurgo non si determina a portare il paziente in sala se si vuole evitare di incappare nella responsabilità d'equip in un caso in cui si è valutato che se ha una frattura di femore che deve essere operata in 48 ore, che l'allettamento può solo peggiorare. Insomma anche lì bisogna avere un attimo anche di coraggio che manca, perché il coraggio manca sempre. Allora se a noi manca il coraggio non possiamo pretendere che ce l'abbiano i chirurghi, perché io sono l'idea che non si può demandare agli altri quello che noi non siamo in grado di fare da un punto di vista proprio di quota di coraggio. Perché quando poi succede che un paziente deve andare in sala, non ci va, c'è un ritardo, in questi casi se il ritardo era conoscibile all'anestesista, siccome anche l'anestesista sa che il femore si opera comunque il prima possibile in quei pazienti in cui bla 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 ci stanno detti prima, allora io invocarei la responsabilità di keep, perché direi l'anestesista non poteva lavarsi nelle mani, quindi non c'è verso di farvi capire che non ci sono risposte precostituite. Io non ho le risposte precostituite, cioè io ogni volta che sono in sala operatoria che ho un casino, per me è un casino, esattamente come per voi. E quello che io cerco di fare, poi non so, magari sbaglio anch'io tante volte, perché qui nessuno è perfetto, però quello che io cerco di fare è mettermi super partes, cioè guardare le cose dall'alto e dire io che cosa sto facendo? Sto facendo la scelta scientifica giusta? Posso migliorarla? Sto facendo presente ai miei colleghi che ci sono delle situazioni per cui la scelta A è meglio della scelta B? E ovviamente quando è possibile se ne discute, quando non è possibile discuterne si litiga, quando diventa pericolosa la situazione si scrive. Però quello che voi dovete riuscire a fare è quello di diventare autonomi, non nelle risposte precostituite, perché non è un sistema binario 0-1, è sempre uno 0, qualcosa in medicina. Quindi non è on-off, è cercare di capire se siamo scriminati dallo stato di necessità, se non abbiamo il consenso. Certo è che andare a chiamare il giudice tutelare su una cosa simile è pura follia, cioè questa dovrebbe essere una scelta che già viene abbandonata. Se il paziente non è operato da 12 giorni, in cartella è stato scritto perché noi vediamo quel paziente il tredicesimo giorno, può andare in sala. Stiamo lasciando una traccia in cartella che lo abbiamo visto e che secondo noi può andare in sala. Perché nel momento in cui noi fossimo chiamati a una valutazione e ci adeguassimo, ci sedessimo sulla scelta sbagliata del collega, entraremmo in quella che vi ho già detto tante volte, essere la cooperazione colposa. Cioè la cooperazione tra più persone, tutte consapevoli dell'intervento, di quelle che vengono prima e di quelle che verranno dopo, e nessuno di queste interrompe il nesso di causa. Quindi vedete che in un caso così, che sembra apparentemente sciocco, l'82enne da 12 giorni in attesa di intervento, che nessuno poi addormenta perché finché non c'è il giudice tutelare, e non si prende in considerazione la scelta più logica dello stato di necessità, si presta a parlare di consenso, di cooperazione colposa, di responsabilità d'equip, per responsabilità d'equip perché si è tutti inescusabili. Vedete che sono sempre quelle le categorie del diritto che vengono fuori? Vi ho parlato a volte della sola cooperazione colposa, vi ho parlato del solo consenso, vi ho parlato della responsabilità d'equip. Io quando vi parlo del singolo argomento ve ne parlo singolarmente, ma perché si fa così quando si vuole spiegare un argomento a chi non lo conosce? Ma poi vedete che si intersecano sempre. Quindi bisogna che si impari a ragionare in un modo diverso, che non è un modo meccanicistico, non è nemmeno un modo giuridico, è un modo corretto della prestazione d'opera intellettuale, perché poi è lì che si cade, perché poi negli eventuali processi si tratterà di capire se la prestazione del medico, la prestazione professionale sia stata corretta oppure no. I processi servono a chiarire tutti i vari percorsi, se no non ci sarebbero i processi. I processi servono a capire se le norme che vengono invocate sono quelle giuste per poter analizzare le questioni, quindi se c'è cooperazione colposa, se c'è lesione dell'autodeterminazione, se c'è stata una responsabilità d'equip. Tutte queste cose vengono tirate fuori nel processo. Quindi mi raccomando, mi raccomando, cercate di, prima di smontare le idee preconcette e di sforzarvi a ragionare in modo organico, vedendo le cose dall'alto senza avere paura. Se c'è un paziente che deve andare in sala e il chirurgo ti dice di no, tu scrivi, consiglio al chirurgo di andare in sala, ma il chirurgo rifiuta. O te lo firmi, è sempre meglio firmare questo che firmare poi le lezioni di domicilio ai carabinieri che ti consegnano l'avviso di garanzia. Bye! Bye!